One, go! 120, circa, alcuna, se sono rotta, via! 30 seconds. Quanto? 13 minuti! È terribile, ragazzi! 40 seconds! Ma si sta dominando! 10 seconds! Ha superato 200, vai! Stai a 200, quasi 40! 5, 4, 3, 2, 1, fermati! 3, 2, 1, go! Cosa dice? Cosa dice? Allora, parla pure! Ma questo parla! Si carica! Ma devi connessione! Tenga, tiene, 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 viene! Vai! A sull'aritmo! Tenga, 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 tenga! Questa ragazzo schironte! Questa non vi facciamo? 30 seconds for amazing! Vai, 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 vai! Vai, vai! Andata a te! Ehe! Ehe! inletse! Fermate! Fallo per me! Quanti secondi mancano? 5, 4, 3, 2, 1... Fermo! Fermo! Bravo! Bravo, mamma! And the winner is... I will start with Naveen. The record to beat is 270. Naveen successfully broke... 239 nuts! 239! In Mohammed's attempt, he got a total of... 254! Yeah! That's a new Guinness World Records title! The winner! 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 Grazie.